Cresce l'attesa per la sfida tra Rieti e Campobasso. Diversi supporters si stanno organizzando per seguire la gara in trasferta. Da domani sarà possibile acquistare italiani online circa 400 i biglietti a disposizione per i tifosi rosso-blu e non escluso che in caso di richiesta il numero possa salire. La sfida in programma lo stadio Maglio Scopigno è sicuramente la gara più importante della stagione per il Campobasso. In caso di successo si spalancherebbero le porte della Serie C. Infatti anche se il notaresco dovesse vincere a Recanati mancherebbe a quel punto una sola lunghezza ai lupi per certificare il salto di categoria. La squadra è concentrata al massimo per preparare la sfida agli amaranto celesti. Archiviato il pareggio contro il porto Sant'Elpidio, Cogliati e compagni sono pronti a scrivere una pagina di storia indelebile del calcio rosso-blu. Nel dettaglio mister Cudini recupera Bontà e Tengorang al rientro dopo il turno di squalifica. Un'ottima notizia per il trainer marchigiano che potrà contare su maggiori alternative nel reparto di centrocampo. Anche in difesa è praticamente recuperato Menna in panchina domenica scorsa. Passi in avanti anche per Esposito che potrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo oltre un mese. Insomma Cudini potrà contare sulla migliore formazione con i giocatori pronti a stringere i denti con la voglia di scendere in campo e certificare il lavoro di una stagione lunga ed estenuante. In Rieti come tantissime squadre del Giron F è senza obiettivi concreti. La salvezza è arrivata, i playoff sono lontani e l'obiettivo è quello di valutare qualche giovane in ottica prossima stagione e chiudere il torneo nel migliore dei modi. Una tranquillità che permette di giocare senza assiglie e tensioni, una sensazione di comodità che fa più bene che male. Nessuno si sposta, nessuno si concede all'avversario, ancora di più sul campo di casa, ecco perché Rieti-Campobasso sarà una gara vera dove le motivazioni e la rabbia dei lupi dovranno fare la differenza. Ricordiamo che nella gara d'andata ci fu un netto 4-1 in favore del Rosso Blu grazie alla doppietta di Montà e alle reti di Esposito e di Domenico Antonio dopo il vantaggio lampo dei laziali messo a segno da Fioretti. Rieti che dopo un exploit di sette vittorie consecutive, dopo la batosta di Selvapiana è decisamente sceso in gradatoria. Dalla seconda piazza i laziali occupano al momento la nona posizione a centro classifica, nel mezzo l'esonero del tecnico Stefano Campolo, sostituito a marzo dall'attuale mister Raffaele Battisti. Domani in campo il vasto Girardi nel recupero con il Castelnuovo Vumano. Siamo proprio a fine stagione, la società gialloblu ha saputo della data del recupero solo lunedì. Il tempo di rivedere i programmi da parte dello staff tecnico che ha dovuto preparare un tour de force con quattro gare da giocare in dieci giorni. Si parte domani pomeriggio al Ditella, domenica si va a Genzano, mercoledì prossimo in casa contro la Re Canatese, infine la chiusura domenica 20 giugno a Tolentino. Quattro gare conclusive per ben figurare e migliorare il bottino di punti in classifica. Questo l'obiettivo del vasto Girardi che vuole congedarsi in particolar modo nelle gare interne nel migliore dei modi a partire da domani contro un Castelnuovo Vumano che nel girone di ritorno ha vinto solo al Civitelle contro l'Olimpia Agnonese. Proprio Granata ospitano l'Aprilia per la penultima uscita interna. La squadra guidata dal duo di Rosa Rullo vuole chiudere nel migliore dei modi l'esperienza nel campionato di Serie D. Prima contro l'Aprilia a seguire nell'ultima sfida di campionato, sempre al Civitelle, contro il Montegiorgio nel mezzo l'infrasettimanale di Castelfidardo. La squadra è viva come dimostrato nell'ultimo periodo e vuole chiudere al penultimo posto una posizione che potrà essere utile anche in caso di un'eventuale domanda di ripescaggio da presentare la prossima stagione. Infine la conferma da parte della LND della disputa dei playoff a fine campionato ha dato altra linfa all'FC Matese. I biancoverdi sono scivolati al quarto posto dove il recupero vinto dal Pineto contro il Castelnuovo Vumano ieri. Sono proprio gli abruzzesi ora ad occupare il gradino più basso del podio con una lunghezza di vantaggio sulla squadra di Corrado Urbano. Un piazzamento importante perché permette di giocare la semifinale playoff in casa e con i favori del risultato ottenuto al termine della stagione. Matese impegnato domenica Giulianova, Galesio e compagni cercheranno di portare a casa l'intera posta in palio per accorciare sui bianco celesti che ricevono il Castelfidardo. In caso contrario tutto rimandato allo scontro diretto. Mercoledì prossimo al Ferrante si giocherà FC Matese Pineto.